Musica Buonasera a tutti, stasera ci troviamo al Royal di Gallarate per la cena di produzione del nostro programma Qui a fianco a me abbiamo le nostre pin up e possiamo vederle in abiti civili finalmente Ma entriamo dentro a vedere cosa stanno facendo i nostri amici Ragazze ho subito un compito per voi, dovete cercarmi il proprietario Non manca proprio nessuno stasera Abbiamo trovato il proprietario del locale, andiamo a fargli qualche domanda Ciao Alex, come stai? Bene, grazie Cosa ci racconti di questa serata? Beh sicuramente finalmente a Royal possiamo presentare in anteprima questo programma Il cui staff, nostro amico e ospite fisso qua il giovedì a Royal Ok, noi sicuramente ti ringraziamo, complimenti per il locale e speriamo di divertirci tutti insieme Grazie Ciao, grazie Ma quelli che sono appena passati sono familiari Sì sì sì, sono proprio quelli seduti sempre su quello orrende poltrone Ma tu sei sempre in mezzo alle nostre feste? Sì sì, sono sempre qua io, dove ci sono belle donne, macchine, c'è sempre il team catalani Ah ok, va bene, allora divertiti e non bere troppo No, no, non bevo tranquillo Stasera c'è anche Paolo Benzi, il nostro imprenditore varesino Che cosa ne pensi del tuning? Ha passione a molte persone e quindi va portato avanti Dove c'è dentro la passione tutto va sempre bene Ragazzi, ragazzi Cioè, voi non sapete da che cosa vi ho riconosciuto stasera? Ma non devi fare a noi interviste Ascolta, ma te il programma ti ha messo le ali? Grande battutora Penso che dopo questa battuta io potremmo dire alla regia di licenziare la nostra giraffa che fa le esterne No, però sicuramente a parte le battute ci amiamo fondamentalmente Volevo ringraziare tutti di essere qua Non potevamo che non esserci a rappresentare nella scena di produzione di questo programma Che funge da buon auspicio, buon augurio Il tuning è anche questo È festa, divertimento, passione Tutto per la vettura È tutto qua il tuning Non è nient'altro Non c'è legalità, vero? Vero GD vorrei fare un saluto particolare a te Grazie per avermi dato questa opportunità Qui c'è da lecarsi i denti stasera Qua mi fanno saluti, le corne Come si dice in gergo Mi stanno a lavorare Nadia ci tocca bisogna tagliarla So che è un peccato rovinare questa torta Guarda quale parte la tagliamo Oh ma stai sempre in mezzo Cioè oltretutto che viene pagata Guardate cosa combina Comunque Posso una fragola? Fai distruggere tutto Tagliamo? Tagliamo e direi che Dedichiamo questo taglio Alla faccia di tutti quelli Che non credevano in questo programma In quello che stiamo facendo E volevo solo dare un messaggio Il tuning è anche questo Non è solo illegalità Non è solo Dominic Toretto Che fa le rapine di notte E soprattutto le cose legali Il tuning è passione E il nostro programma Cercherà veramente Di darvi questo messaggio Grazie a tutti Grazie a tutti